Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e inconscienza.